Nuove importanti direttive per la sanità pugliese che continua a gestire con la massima attenzione l'emergenza epidemiologica da coronavirus, covid-19. Proprio dalla giornata di oggi, come deciso dalla direzione del Dipartimento Promozione della Salute, sono sospese in via straordinaria tutte le attività sanitarie non urgenti nelle strutture pubbliche. Un provvedimento che serve ad evitare la presenza in ospedale di pazienti che potrebbero infettarsi. L'obiettivo è quello di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche e anche per rendere disponibili più sanitari nelle attività di contrasto al contagio durante il picco epidemico. Stop quindi a ricoveri, visite ambulatoriali, esami diagnostici operativi, gli esami di laboratori, i dei service non urgenti. Sono sospesi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici che non siano giudicati indifferibili dei sanitari. Sarà possibile effettuare solo i ricoveri programmati per pazienti oncologici e per quelli provenienti dal pronto soccorso che siano considerati dei sanitari indifferibili. Si svolgeranno regolarmente i piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che non si possono rimandare in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente, quali ad esempio dialisi, terapie oncologici, chemioterapiche, PET-TAC, radioterapia e naturalmente tutti gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita e alla diagnosi prenatale e dal parto. A partire da domani è prevista inoltre la sospensione temporanea delle operazioni di sportello all'interno dei CUP per evitare la sosta dei pazienti nelle sale di aspetto e davanti agli sportelli, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti. Si potrà invece regolarmente effettuare le donazioni di sangue per le quali si continua a fare appello ai donatori per far fronte al calo delle scorte. Sono garantite naturalmente tutte le prestazioni urgenti e indifferibili.